Nella vita quotidiana, voi siete la vittima, il boia e il benefattore di voi stessi, di VB. Blaise Pascal, 1623-1662, matematico, fisico, filosofo e teologo francese, bambino prodigio, in pensieri dice Per misurare la virtù di un uomo, non bisogna guardarlo nelle grandi occasioni, ma nella vita quotidiana. Commento. Noi siamo dei solenni ripetitivi nella nostra superficialità. I maestri immateriali confermano che il divino non è nel passato e nel futuro, ma si nasconde nella vita quotidiana. Perché la realtà è eterno presente.